ciao a tutti ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale oggi siamo sui football 2024 per andare fortunatamente ad analizzare quello che è stato la prediction di sabato scorso dove siamo andati a analizzare schools basistuta e van der warte vedete adesso nell'immagine prima andare avanti lo sapete come non l'aveste ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti c'è sempre un bel like di supporto amici miei perché sono stra fondamentale lo sapete per l'andamento del video venite anche a trovarmi nel mio gruppo telegram tutto sotto link in descrizione e sul mio canale twitch dove vado spesso 20 anni live portando appunto e football 2024 con i suoi pro e con i suoi contro andiamo a vedere i nuovi giocatori che sono usciti quest'oggi allora eccoci qua con appunto il pacchetto national attackers però vabbè insomma vorrei dire che schools e van der warte sono più trequartisti piuttosto che attaccanti battistuta il vero rapace d'aria sotto un certo punto di vista ragazzi poi seguite tutto il video perché verso la fine parlerò anche di un mio pensiero riguardo quello che potrebbe essere l'imminente aggiornamento e i segnali che economi ci ha dato grazie appunto a quello che hanno introdotto quest'oggi comunque vediamo un po nel pacchetto da 150 giocatori classico chi possiamo trovare dentro un de bruin golosissimo un giocatore con 29 livelli di crescita e potrebbe essere vero molto molto interessante questa carta davvero valida poi ci sono koulousevsky taglio al centro al solito sane alla prolifica dove può giocare soltanto esterno chic 5 stelle forse la prima versione in e football dove vedo chic contro la colpa 59 tronco supero però non da sottovalutare poi c'è gonzalo ramos eccetera 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 malen attenzione questo è interessantissimo secondo me veramente una carta da non sottovaluta 29 livelli di crescita anche lui o se fisica c però dovete vedere sempre comunque verardi ovviamente sarà fuori per parecchio tempo e quindi penso che la forma fisica settimanale sarà un po così e basta non c'è più niente perfetto allora a questo punto potremmo partire da scolz regista creativo come vi dicevo prima secondo me è proprio un trequartista fatto è finito potenzio 90 finalizzazione 85 di base un animale vero e sotto l'aspetto del booster lui va a prendersi più due sul controllo pala del ring posto stretto e passaggio a terra tecnica tecnica più due giocatori delle statistiche molto elevate non sto scherzando 35 di crescita sono tanti 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 dove fa tipo 102 in game clamorosa questa carta vediamo l'abilità colpo di testa tiro di collo tira salire lancio lungo tiro di prima tutte abilità di tiro è parte colpo di testa ovviamente passaggi prima passaggio calibrate qua scalibrato posso scavalcare e spirito combattivo carta dal mio modo di vedere illegale perché ha tutte le abilità per un trequartista e le statistiche sono assolutamente perfette quasi però io ricordo un scolz diciamo non proprio devoto all'attacco e più un giocatore che stava a centrocampo tra le linee però insomma magari questa vita di 24 anni era tutta altra roba non lo so non mi ricordo sinceramente non era uno dei miei giocatori preferiti però allora guardando la carta in sé si è vero statistiche devastanti però io aspetterei sinceramente prima della girare nel caso per lui perché comunque di trequartisti forti ne sono usciti e ne usciranno da andare a vedere gabel omar battistuta opportunista booster sul controllo palla fine direzione potenza di tiro e contatto fisico in generale tiro più 2 carta opportunista e non rapace d'aria come avevamo visto sui football hub quindi i suoi movimenti potrebbero discretamente cambiare non un animale della rigore ma più opportunista che quando trova la palla vagante o il passaggio che lo manda in porta nove volte su dieci dovrebbe comunque buttarla dentro non lo so se effettivamente così poi dipende sempre un po dal dal game in generale è sempre il tipico attaccante di peso che comunque dovrebbe fare dei parametri alla fine visto che a 31 livelli di crescita non vedete l'abilità taglio le spalle giro skill colpo di testa parlato mirato tiro di collo tira salire lancio lungo fino adizione combatica tiro di prima posso agir prima e il leader non vede dominio palle alte quindi metterei appunto con stabilità tempo zero per poterlo far rendere anche nel gioco aereo poi non so quanto ha di resistenza spirito combativo se lo volete utilizzare fino a fine stamina serve e poco altro ragazzi perché oggettivamente lui l'attaccante che deve finalizzare basta non è che deve fare tanto gioco tanto gioco con la squadra deve fare il gioco per la squadra con le sponde però lui vedo che già ha già il passaggio di prima quindi richiede poche abilità è un attaccante di peso chi adora gabriel omar battistuta non so farà sfuggire penso io a me piace tantissimo ma in generale ho già la carta epica non so quanto può valerne la pena vader bart è vista creativo booster sul controllo palla dribbling posto stretto e passaggio raso terra tecnica anche lui più 2 l'abbiamo visto nella nelle prediction di football hub con 31 livelli di crescita che gli avevo messo questo ne 30 dove fra 97 in game 100 totale bella carta è bella carta per l'amor di dio però quel controllo corpo 71 l'altezza con 76 fa pensare un po alla all'essere un po troncheggiante però magari potrei sbagliarmi vediamo nelle abilità veronica controllo di suola tira a scendere lancio lungo passaggio di prima filtrante calibrato cross calibrato esterno al giro e no look legista creativo con queste abilità con queste statistiche glielo farei giocare sempre su sempre del quartista mai esterno perché uno ha poca resistenza e due non è velocissimo quindi non è neanche il booster sulla velocità e vedete accelerazione 78 70 e sono tanti punti poi nello sviluppo del calciatore in sé io andrei a concentrarmi molto di più sul controllo corpo e poi sulla tecnica qualcosa ovviamente sì ma non arriverà mai oltre gli 80 ragazzi secondo me la velocità accelerazione potrebbe fare anche 85 86 che per un tre quartista se ci pensate è veramente tanta tanta roba è anche più bella carta però in generale credo che alla fin della scuola sia qualcosa di diverso sia più forte dei tre assolutamente poi gabriel è un bel attaccante assolutamente sì guardandolo in generale potrebbe essere sicuramente anzi sicuramente sarà più forte dell'epico uscito l'anno scorso però ovviamente non è che vado a impazzire se non vado a girare per questo pacchetto io ho visto qualche messaggino che mi è arrivato anzi nei commenti del video di sabato dove qualche ragazzo comunque sto fischiasto sto comunque girando tanto e non riesco a fermarmi allora ragazzi questa è la prima cosa che vi dico ma deve essere veramente stra fondamentale e dovete capire quello che sto per dovete capire le mie parole altrimenti non ha senso questo gioco è pay to win non giriamoci troppo intorno quello che vi dico ogni settimana quando vi dico dovete valutare voi sta a significare raga non è obbligatorio andare a girare in questi pacchetti lo fanno apposta è una simile slot machine se voi andate ogni volta a già in questi pacchetti e poi non vi rendono gira il cazzo settimana dopo vedete un altro pacchetto goloso girato non vi rendono andate in loop e rischiate davvero di farvi del male oltre che monetariamente anche fisicamente psicologicamente perché diventa una malattia io quello che vi posso assicurare è che è quello che non deve passare mai come esempio è che io quando vado a girare questo giocatore faccio dei test per me è un contenuto che alla fine del mese le piattaforme per la quale io lavoro cioè youtube e twitch mi pagano quindi una buona parte se non tutta la parte quando c'è il mese buono mi rientrano ragazzi quindi non vado a perdere quasi nulla ok e se prendo sarà qualche euro non è roba non è roba che dici fischia genna però lo fa e lo fa io tra l'altro non sto manco girando da qualche settimana perché non c'è veramente niente da girare questi sono giocatori si molto interessanti per nostalgia ma secondo me un batistuta con questo gameplay a meno che non siete fenomeni con le mani non rende e stessa cosa per scolto scolto è forte per amore molto forte però cioè se avete già girato per un ipotetico chi ne so anche francesco totti anche un musiala giocatori forti veri sicuramente questo qua qualche punticino in più sulla finalizzazione essendo trequartista ma che cazzo cambia se deve entrare entra lo stesso quindi quello che vi posso dire ancora una volta è usate la testa quando vedete questi giocatori i soldi sono i vostri e vanno a finire soltanto a conami avete visto come gestiscono il videogioco vale mai la pena andare a lasciare tutti questi soldi per me no quindi se la tradizione è quello che succede e se avete problemi cominciate a e lo capito per voi cominciate a valutare delle soluzioni perché non è mai troppo tardi e questo è importante ragazzi mi raccomando eccoci qua è appena arrivata la notifica dell'aggiornamento io volevo aprire questo discorso una volta visti gli eventi e guardando anche al fatto che duravano veramente tre giorni e niente questa notifica che è appena arrivato metti questioni di strano pubbliceremo la versione 3.4.0 di football 2024 per ringraziare tutti il loro straordinario supporto gli utenti che installeranno l'aggiornamento avranno accordo al buio probabilmente per girare o nei nuovi pacchetti epici che potrebbe va addirittura giovedì riguardante il manchester united o addirittura con quel pacchetto che abbiamo visto quest'oggi ma è una singola fondamentalmente 100 monete però la regalano niente allora valutiamo questo aggiornamento una volta finito di vedere comunque anche gli eventi e vi farò comunque un recap generale allora come vedete c'è il national team che ha introdotto quest'oggi e poi anche il national team sia per quanto riguarda anche l'evento contro la cpu questo dura sei giorni in quest'altro dura due giorni quindi era preventivabile che sapete che quando introducono un un evento il medi dura comunque fino alla domenica e in questo caso tra due giorni in questo caso ragazzi quasi 50 monete e football e poi ci danno tre programmi aggiuntabilità il contesto è il national team quindi qua dovete scegliere una nazionale scegliete la nazionale dove voi avete più giocatori nel roadster quindi più utilizzati e quelli allenati senza poi andare a prendere giocatori in base che poi ovviamente vi lascia anche il gioco però io preferirei utilizza sempre i giocatori che da me sono stati livellati e da me sono stati utilizzati niente quindi abbiamo visto sta cosa e adesso mi collego all'evento che durerà due giorni e qualche ora arriverà ovviamente questo aggiornamento che abbiamo appena visto anzi lo lasciamo in sottofondo con con la notifica arriverà questo aggiornamento che porterà chissà che cosa negli ultimi tempi anche in chat quando siamo in live notiamo che la percentuale di persone che partecipa a questo a questo campionato e football e quindi in generale essendo l'unico evento dove tu puoi provare quelle carte che vai a shoppare il gioco di per sé ha perso un po di utenza secondo me e anche secondo la chat e l'interesse un po sta scemando perché metti tanti pacchetti ma non fai niente per migliorare questo videogioco che a dita di tutti perché non è che lo dico soltanto io che sono l'ultimo scemo del villaggio ma anche pro player gente che comunque vive il gioco quotidianamente sta dicendo che ha delle pecche importanti che continuano portarsi avanti da in memore tempo cioè ormai ogni ogni settimana vediamo sempre le stesse robe di empleo alla mano è troppo è troppo randomico perché puoi vincere contro divisione 1 top 100 poi perdere contro divisione 3 top 12 mila ok e sto ipotizzando con tutto il rispetto possibile immaginabile perché divisione 3 in quella posizione sia chiaro però non è possibile che in questo caso l'esperienza la qualità ma anche in generale la possibilità di mettersi a confronto non vengono valorizzate semplicemente perché il videogioco è pieno zeppo di errori sia per quanto riguarda gli automatismi che possono essere le animazioni sempre quanto riguarda anche la struttura del videogioco che è palesemente un una beta perché non ha oltre che il campionato di football e qualche evento che butti fuori sempre uguale non abbiamo quindi questo aggiornamento per me comunque che sono tra virgolette un veterano nove però possiamo dire anche un una persona che vive il gioco quotidianamente e che ha un po di esperienza non ci buttare la testa nel senso che tanto alla fine della fiera si potrà andare bene i primi due giorni poi dopo potrebbe essere il solito e football quindi noi vogliamo metterci tanta tanta speranza in questo tipo di notifica in questo tipo di cosa però sappiate che potrebbe essere una sorta di fumo per gli occhi ok un aggiornamento che magari avrà richiederà tantissimi gigabyte di peso e di download poi alla fine potrebbe non portare nulla nell'effettivo e nel breve lungo periodo e quindi niente per quanto mi riguarda boh aggiornamento che dice poco e dice dice tutto e dice nulla quindi insomma è un aggiornamento importante è un aggiornamento importante e sappiamo che questo tipo di versioni di aggiornamento comunque avranno delle potrebbero avere delle migliorie importanti però ripetisco io non ho visto niente ma sono già abbastanza deluso fatemi sempre voi sotto i commenti cosa ne pensate ovviamente mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere sempre sti contenuti e speriamo bene di poter arrivare per il mio compleanno che il 2 giugno 2 giugno hai 4000 iscritti dai a tutti ragazzi vi auguro una buona giornata come sempre buon game